Noi possiamo dire che l'ontologia e l'epistemologia BTE sono una meta-ontologia, una meta-epistemologia. Cosa vuol dire? Vuol dire che in genere una epistemologia ci dice dimmi come fai a fare quello che fai, qual è la tua teoria della conoscenza, qual è il tuo modo di conoscere? Mette epistemologia perché, perché qua ti dice guarda che qualsiasi sia il tuo modo di conoscere passa attraverso un circuito dell'esperienza che è sentire, agire e pensare. Qualcuno di voi si è chiesto dei perché, qualsiasi perché tu ti chieda sappi che avviene e deve avvenire sulla triade, sentire, agire e pensare. Qualsiasi malessere o benessere che stai vivendo sappi che questo stato non è solo un sentire ma è frutto di un sentire, agire e pensare. E epistemologicamente chiedersi perché, a meno che non ci intendiamo su cosa intendi, non è funzionale perché se io voglio comprendere il perché è vero con la P maiuscola devo stare in quello stato di ascolto per cogliere nel sentire, agire e pensare la struttura che fa sì che io sia stanca. Quindi potete capire quando io vi dico guarda che perché è una domanda sbagliata, cioè questo qui lo dice Hillman per la verità, però che cosa mi consente di dire che perché è una domanda sbagliata? Il fatto che la mia meta epistemologia mi dice tutto è un circuito di sentire, agire e pensare, qualsiasi evento, qualsiasi atto, qualsiasi malessere, qualsiasi ottenimento, per cui io dovrò padroneggiare e sentire, agire e pensare o dovrò cogliere sul piano e sentire, agire e pensare quello che sta succedendo. Questo vuol dire corpo, emozione e mente. Questo vuol dire che in questa triade tu puoi mettere tutto quello che conosci. Noi stiamo parlando di quelle che sono triade fondamentali, corpo, emozione e mente. I tibetani parlano di corpo, voce e mente e così via. E perché vi ho messo lì lo spirito? Tu puoi avere un anelito spirituale, tu puoi parlare con gli spiriti, tu puoi immaginare o sognare o visualizzare, ma la dimensione dello spirito è la nostra essenza e si manifesta quando noi teniamo integrato corpo e emozione e mente. È l'unità stessa. La giustazione è tenere insieme corpo e emozione e mente, sentire, agire e pensare. Quando io faccio quello, vivo un'esperienza unitaria del mio sé che è l'esperienza spirituale. Cioè lo spirito è quel senso di unità, è il principio unificante che coincide nella nostra visione con il sé, frutto dell'integrazione. A livello di azione ovviamente è il movimento, movimento di tutti i corpi. In movimento c'è il ritmo. È importante che io riconosca a livello di movimento. Cioè qual è il ritmo di quello di essere fermo. Il fermo del corpo muove le strutture profonde, quindi si sta muovendo in profondità. Per questo è che è importante che io padroneggi cos'è quest'area qua dell'agire. L'agire può anche essere essere immobile, anzi parte dall'essere immobile. L'agire è prima di tutto vai vu vai, fare senza fare. L'agire è prima di tutto il vuoto. Il movimento prima di tutto nasce dall'essere fermi. Cioè nel vuoto della fermezza nasce il movimento che poi deve prendere tutti i corpi giustamente e portare, ma prima di tutto i corpi profondi. È prima di tutto il movimento dello spirito, che poi diventa movimento della mente, che poi diventa movimento delle emozioni, che poi diventa movimento dell'energia, che poi diventa movimento del corpo. Questo ci aiuta, l'integrazione della vita, ci aiuta a comprendere la vera natura del movimento. Così come la vera natura del sentire. Sentire, emozioni, e muovio, muovo fuori. Il sentire è quel moto che accoglie tutto ciò che è in entrata e lascia muovere dentro. Quindi fondamentalmente e soprattutto il respiro, ma anche qui, così come il movimento esteriore è, tra virgolette, ben poca cosa rispetto al movimento interiore, se mi muovo solo fuori, ovviamente separo, perché io posso credere che ho bisogno di movimento e quindi danzo e va benissimo. Ma questo danzare deve nascere da uno stare fermo, perché se io mi muovo per il bisogno di muovermi, sto agendo secondo un bisogno carenziale, di mancanza. Invece il movimento autentico è un movimento che nasce da sovrabbondanza. Il movimento transpersonale è la mia sorgente deborda su tutti i livelli, ma parte dalla sorgente, quindi parte dallo spirito. Per questo che io posso desiderarlo di fare un movimento che parte dallo spirito. Ma se ho la tecnologia giusta, se lo tengo integrato corpo-animemente, se io faccio lo zero prima, cioè sto nel vuoto e da casa mi muovo tenendo integrato corpo-animemente, capisci che il tuo movimento è un movimento trasformante su tutti i corpi. La prima attenzione vede il movimento. La seconda attenzione si accorge che il movimento è stasi movimento. Parte dal vuoto il pieno. Lo stesso respiro, le pratiche di pranayama, le pratiche di vipassana, le pratiche di rebirthing, le pratiche di respirazione lottropica, sono metà della storia. Ora, se tu metti l'accento sul respiro, va bene, ma è metà. Il socio interno è l'origine. Quindi se il respiro è più accelerato, ti fa perdere il contatto con lo spirito, con la shé, con il soffio interno, il jinn secondo il taoismo, cioè il soffio essenziale, allora anche il respiro può essere qualche cosa che si muove su bisogni personali e non transpersonali. Perché parliamo di meta-epistemologia. Come fai? Respira, va bene. Ma la vera respirazione è dentro e fuori, cioè esterno e interno. È respiro e socio interno insieme. Allo stesso modo per le visioni, il mentale. Ci sono molte pratiche che partono da, ok, immagina perché l'immaginazione viene prima dell'azione, perché l'energia segue il pensiero e quindi usa il tuo pensiero per orientare la tua vita. Quindi pensiero positivo, visualizzazioni creative. Questo è un pezzo all'esterno, ma all'interno è la visione. E ben lo sanno gli sciamani, ben lo sanno i nativi americani che vanno ad avere le vision quest, ben lo sa chi fa le pratiche con le medicine. La visione è una cosa che ti succede, è un'epifania. E se tu crei la visione con l'immaginazione creativa, fai solo un pezzo, fai solo il pezzo fuori, fai solo questo pezzo qua. Non fai l'integrazione e quindi consente allo spirito di darti la visione. Sembra lo stesso, perché se tu immagini un'aquila o vedi un'aquila, è un'aquila. Ma l'aquila che tu vedi come epifania che viene dallo spirito, è diversa dall'aquila che ti immagini. La vita ti dice, occhio, tieni integrato e dallo spirito emerge. Le sue manifestazioni potranno essere manifestazioni di soffio, manifestazioni di movimento, manifestazioni di visione. Ma devi creare le condizioni, la giustazione famosa, perché vengono da dentro. Altrimenti fai tutto, non è che non serve. È certo che fa bene respirare, fa bene muoversi, fa bene avere un pensiero positivo. Noi stiamo parlando di un'esperienza integrale e transpersonale. Chiara, posso fare una domanda? Quindi è necessaria la contemporaneità? Sì, aspetta, posso dire, sì, sì, certamente. Qui è d'ora e infatti arriviamo a questo. Questa qui è la pratica, quindi. Perché, allora, questa qui abbiamo detto, questa qui è la nostra epistemologia, che giustifica questa pratica. Se questo che abbiamo appena detto è vero, allora tu cercherai di fare questo. Epistemologia, metodologia. Ed è quello di cui ce l'eneremo adesso. Che è anche questo qua, prima qua. Flusso propriocettivo, flusso pranico, flusso ideativo. Lo chiamiamo così. Materia, energia, coscienza, sono sempre insieme. Materia, energia e coscienza sono sempre insieme. L'insieme di queste tre fa sì che l'essenza si manifesti, lo spirito si manifesti. Quindi lo spirito non è una cosa diversa dall'emozione, dalla mente, dal corpo. È il frutto, è ciò che lo genera, è ciò che produce ogni manifestazione. Quindi veniamo alla giustazione. La giustazione, metodologicamente, è questa integrazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io ho una sensazione, se sul palcoscenico viene una sensazione, io dovrei stare attento a qual è l'emozione connessa, emozione uguale voce, uguale suono, uguale respiro, tenerle insieme, e a qual è la visione connessa. Ogni sensazione, anche ogni gesto, ogni gesto è un'immagine. Ogni gesto è un'emozione. Ma se io faccio solo il gesto, il gesto mi può separare dall'emozione, dalla sua emozione, dalla sua immagine, oppure tenerla insieme. Nella prima attenzione faccio il gesto, danzo, perché seguo il bisogno di muovermi. Ma se questo mi porta via, da qual è l'emozione, il suono, il respiro che sta succedendo, e da qual è la visione che si sta producendo, io mi sto separando. Quindi mentre mi muovo, tecnologicamente, per esempio, sento, tengo il respiro lì dove mi sto muovendo, e guardo qual è la visione che si produce. Qui c'è una ricchezza enorme, perché questo mondo qua, del rosso, è il gesto, ma è anche la sensazione corporea, è anche il bisogno primario, diciamo così, che mi spinge, sento bisogno di muovermi. Ok. Ma questo sento bisogno di muovermi soddisfa una dimensione della mia anima, attiva la mia anima, e quindi ascolto qual è il processo animico profondo che si sta compiendo mentre faccio questo gesto. Ma anche questo gesto ha un significato. Su un piano mentale inferiore il significato sarà io faccio così, e il significato è no. Ma non è solo questo il significato. Il significato di questo, se io lo colgo sul piano archetipico, cioè se io riesco ad avere la visione, questo non è solo no, questo è avanti e indietro, questo è maschile e femminile, questo è padre e madre, questo è passato e futuro, questo è ritmo. C'è un'infinità di significati archetipici. Questo sarà un movimento che io posso ricondurre. Per esempio Yamaisha, che mi parla del ritmo. Quindi ci sono infiniti livelli di comprensione e di visione per ognuno di questi tre aspetti. Più io li comprendo, più c'è una ricchezza che tende a portarmi via. Occhio! Per questo che l'integrazione è quella capacità di restare, perché lo facciamo con Nanao? Perché è quella capacità di restare e di tenere insieme. Di tenere insieme qualcosa che è già insieme, quindi non di mettere insieme. Per questo che non è che io mi muovo e poi respiro e poi penso, ma mentre mi muovo, cioè mentre sul palcoscenico viene il movimento, io devo portare ciò che c'è dietro le quinte. E qui vediamo in modo ulteriore. Prima e seconda attenzione. Non solo ciò che c'è sul palcoscenico, ma anche ciò che c'è dietro le quinte. Quanto più io colgo il palcoscenico e il dietro le quinte, quanto più io tengo integrato tutta la faccenda. e lo spirito, la scè, il mana, si può manifestare. Se io non faccio questo, posso fare tutte le cerimonie che voglio, tutte le preghiere che voglio, tutti i rituali che voglio, ma non sono in contatto autenticamente con lo spirito. Ma lo zero dunque, punto di partenza? Certamente sì. Allora, l'integrazione BTE è una pratica che ha una sua epistemologia, allo stesso modo come lo zero. È una pratica che ha una sua epistemologia. È chiaro perché incominciamo in prima battuta a parlare dello zero. Tu fai lo zero e sei in quel vuoto originario, connessione con lo spirito. E questo è perfetto. Potrebbe però succedere che tu in questo zero non ti accorga che c'è, che materia, energia e coscienza siano insieme. Stai nello zero e te lo godi, e arrivano magari intuizioni, comprensioni, eccetera. Ti liberi dal tuo passato, che ne so, succedono delle cose. L'integrazione ti dice, guarda che questo sta succedendo. Focalizzati su questo. È ovvio che succede nello zero e tu quanto più tu sei nello zero, quanto più tu lo comprendi. Ma come dire, sono nello zero e metto a fuoco quella cosa lì, o questo, 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 questo. In questo caso stiamo mettendo a fuoco il potere che c'è nell'integrazione di questi tre sottosistemi che compongono il circuito dell'esperienza. Questi sono aspetti cruciali di meta-epistemologia, di BTE, che come vi dico, lo porti in ogni cosa, lo porti in qualsiasi pratica fai. Se tu fai rebirthing senza considerare questo, fai una tecnica. Se tu porti questo nel rebirthing, per esempio, fai libertà dal conosciuto, cioè che è la pratica BTE del respiro. o fai come, come dire, una pratica taoista che è la connessione con il jinn, con l'essenza. Così come vale per le costellazioni, vale per il reiki, vale per qualsiasi pratica che tu possa fare, se hai questo con te. Quello che sempre io ho apprezzato della BTE in generale, rispetto magari anche ad altre pratiche, ad altre discipline, è quello di riuscire ad avere questo sguardo che si può applicare a qualsiasi altro sguardo, no? E però questo mi rendo conto che, cioè, a volte lo sento, che ce l'ho. Poi sento che ce l'ho sempre, ma in realtà sfuma. E tipo oggi tu mi hai riportato a quello sguardo, come dire, con un qualcosa in più, no? Per esempio, una cosa che mi ha colpito molto, che, come dire, è qualcosa che sento, però per come l'hai detto, l'unione tra corpo, emozioni e mente, no? Quindi, il tenere insieme queste tre funzioni, queste tre istanze, svela lo spirito, no? E l'ho sentito in una maniera nuova. E' questo che mi viene da dire, no? Con le parole potrei, come dire, si potrebbero spiegare tante cose, ma credo che questo tipo di insegnamento si approfondisca nel sentire. Cioè, quando tu dici la teoria è una pratica, tu che mi stai raccontando con le tue parole che sono sempre nuove, una cosa che è universale, che è antica, mi rendo conto che dentro di me il sentire cambia. E' come se a livello delle cellule, ah, aspetta, lo sento in un modo diverso che lo spirito è l'unione di emozioni, pensiero e agire, no? Di corpo. E quindi, poi rimango un po' così, come dire, cioè, è sempre uguale, ma in realtà è nuovo, è diverso. E credo che quello che poi mi porto sempre dalla BTE è avere quella, cioè, ricordarsi di questo, cioè, che c'è sempre un modo in cui portare un insegnamento, tra virgolette, è sempre uguale, stando nel sentire, invece, diventa sempre nuovo. Perfetto, hai colto veramente due aspetti assolutamente essenziali che sono fondamentalmente quelli che più di ogni altro abbiamo focalizzato questo oggi. esattamente così. Intanto è bello anche questo fatto, no? Che metti in risalto proprio quello che succede nella prima attenzione con la seconda. La prima attenzione, ah già, ma ancora, ho già fatto questa cosa, no? Certo, per la prima attenzione è già successa, è già stata fatta. Nella seconda attenzione si crea la possibilità, se hai l'atteggiamento giusto, ovviamente, di avere delle intuizioni intuizioni come quelle che hai avuto. Questa è una cosa e quell'altra cosa è questo anche giustifica e conferma la nostra epistemologia del trans. Cioè, le cose che vengono dette vengono dette, sono un trans, non sono quello che sto dicendo, ma sono io più te più il campo oggi. Riflettevo adesso che questo concetto che abbiamo visto è proprio alla base della BTE, nel senso che se la BTE possiamo dire che funge per la realizzazione del sé, che poi a livello individuale ci porta alla realizzazione anche di noi stessi, per arrivare in quella direzione è utile riuscire ad arrivare il più possibile a un allineamento tra queste tre dimensioni per poter fare la giusta azione che poi ci porta verso la realizzazione del sé, avviene allineando queste tre dimensioni appunto. Riflettevo che tutte le pratiche che facciamo anche in BTE ci portano in quella direzione lì, a questo allineamento tra azione, pensiero e sentito, oppure anche un passaggio dallo zero, un passaggio dallo zero ci riporta al momento presente in modo che poi questo allineamento così come anche la presenza del contatto. Grazie. Grazie. Grazie.